Ti sei fidanzato? No. Ti è stato fidanzato? Diciamo. Storiello? Come? Sei vergine, tale? Meglio. Non c'è niente di meglio che essere libero. Quello sì, certo. Speciale in queste situazioni qua. Dai, prova, ci doveri permesso, eh? Proce, ti do il permesso io, vai. Perché dovrei andare là? Non è giusto. Perché dovrei andare là? Non è giusto. Perché se siete da un chilometro che ha litigato col fidanzato che magari l'ha tradita, magari pure più di una volta, oggi gliel'ha detto, lei l'ha scoperto, ha sbroccato e si è venuto a devastare qua. Sta aspettando te che Bagliecchi e metti la lingua in bocca, Tarek. Hai capito? Ma perché? Che cazzo c'hai, Tarek? Guarda che sei un prato di femmina che ti trovi davanti, mi dai, sei un dita su un piatto d'argento, stai qui a parlare con me. Opa. Non mi puoi obbligare ad andare là? Non mi fa rimanere male, tu, Tarek. Tu mi fa rimanere male, Tarek. Non mi fa rimanere male, tu, Tarek. Non mi fa rimanere male, tu, Tarek. Non mi fa rimanere male, tu, Tarek.